Il lungometraggio Re minore, diretto dal regista di Burgio Giuseppe Ferlito, è stato inserito tra i film italiani in concorso ai premi Davidi di Donatello 2022, quelli che sono considerati i premi Oscar italiani. Una grande soddisfazione per tutto il cast, per la scuola di cinema Immagina di Firenze e per tutti quelli che hanno sposato e hanno creduto in questo progetto. Il film è stato girato quasi completamente in Sicilia, soprattutto tra Burgio, Sciacca e Caltabellotta, mentre il regista Giuseppe Ferlito vanta una lunga carriera cinematografica con la realizzazione di numerosi film, alcuni indipendenti e altri distribuiti su scala nazionale. Re minore, già presentato e mostrato presso il cinema Badia Grande di Sciacca, è un lungometraggio poetico e drammatico, dove grande rilevanza all'aspetto musicale. Il cast è composto dai protagonisti Gabriele Ferrantelli nel film Mimì e Letizia Toni, ma anche dagli attori saccensi Vincenzo Catanzaro, Nicola Pudeo e Santo D'Aleo, e poi dalla giovane Emanuela Bonaccorso, Barbara Capucci, Fabio Baronti, Vito Ferrantelli e Walter Nestola. Il film, attraverso la storia di Mimì e del suo vecchio maestro di musica Corona, mette a confronto la doppia anima della Sicilia, quella antica e quella moderna. Re minore, di cui stiamo vedendo il trailer in queste immagini, ha già ricevuto diversi riconoscimenti, ha vinto la 74esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, aggiudicandosi il primo premio della giuria popolare internazionale e il gran trofeo Golfo di Salerno Ignazio Rossi. Ha trionfato come miglior film al Salento International Film Festival 2021 ed è stato decretato vincitore assoluto della seconda edizione del premio Cinema per il Cinema Contemporaneo. «È stata la mia prima esperienza nel mondo del cinema», afferma il protagonista del film, Gabriele Ferrantelli. Il personaggio che interpreto esprime la forte volontà di una Sicilia che vuole riscattarsi, guardare al futuro e progredire. È stata un'immensa gioia quella di aver fatto parte di questo cast e questo progetto, costruito da un grande maestro di cinema come Giuseppe Ferlito, che ringrazio per aver creduto in me. Un progetto, conclude Ferrantelli, a cui sono fiero di aver preso parte, non solo per i premi e i riconoscimenti che sta ricevendo, ma soprattutto per la meravigliosa esperienza di crescita artistica ed umana. Grazie.